Figura anche l'assessore all'ambiente del comune di Andrea Francesco Lotito tra i 26 arrestati della Guardia di Finanza di Milano e Monza nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Monza con al centro appalti pubblici truccati e tangenti a politici e amministratori locali. L'operazione scattata all'alba di oggi è interessato oltre alla Lombardia anche Piemonte, Lazio e Puglia. Tra gli arrestati anche un sindaco del milanese, assessori funzionari e imprenditori implicati in appalti per un valore complessivo di oltre 260 milioni di euro tramite il pagamento di tangenti a politici locali e funzionari pubblici che avrebbero manipolato le procedure delle gare d'appalto. Nel mirino degli inquirenti finisce la Sangalli, attuale ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti anche nella città di Andrea. Più di 200 finanzieri coinvolti nell'operazione che hanno visitato, anche figlielli di banche, sequestrato conti correnti, titoli e mobili per un totale di 14 milioni di euro.